Buonasera dalla redazione di Roma Daily News e bentornati all'appuntamento con l'informazione della capitale. Partiamo dal traffico, viabilità sotto stress per un incidente che stamani ha coinvolto una smart all'interno della galleria Giovanni XXIII. Il veicolo si sarebbe ribaltato bloccando il traffico in direzione Pineda Sacchetti a causa di uno sversamento di liquido sull'asfalto. Intervenuti anche i pompieri, al momento non risultano feriti. Passiamo alla cronaca, i carabinieri e la polizia hanno eseguito un'operazione di controllo nel quartiere romano di Torbella Monaca per contestare le illegalità. Decine di perquisizioni eseguite da 200 agenti di Roma e Frascati che hanno controllato abbinazioni, cortili, garage, scantinati e ascensioni dei palazzi dove valvimenti in genere nascondevano armi e droga. Chiudiamo con lo spettacolo, l'Associazione Culturale e Leali della Vita ha il piacere di annunciare che giovedì 30 giugno all'ora 21 presso l'anfidrato dei parchi della Colombo si trarà l'evento tutti insieme per Roberta. Per poter sostenere Roberta, una bellissima ragazza affetta da una malattia rara, la MC, il concerto prevede un surseguirsi di cover band musicisti che lieteranno il pubblico in sala con il reportario vasto e coinvolgente. Saranno presenti cover di Planet Air Project, Duran Duran Cover, Night About M1 House, cover band Scope Jazz Band, Silvia Gollini in acustico e tanti altri. Era questa l'ultima notizia per oggi, a tutti voi il più cordiale buonasera.